Ciao, sono Dennis Treu, presidente di Okapi Onlus, associazione charity partner di Campus Party. Come associazione realizziamo percorsi di cambiamento attraverso la formazione e le competenze in Repubblica Democratica del Congo e in Rwanda. Come progetto charity che portiamo all'interno di Campus Party, il progetto consiste nell'invitare 5 ragazze finaliste del concorso Miss Geeks Rwanda, selezionate dal Ministero dell'Educazione ruandese, interverranno quindi a Campus Party Italia con l'obiettivo di confrontarsi e di avere la possibilità di conoscere i talenti italiani e di sviluppare con loro competenza ulteriore da trasferire in Rwanda per realizzare ulteriori progetti, con l'obiettivo di portare Campus Party anche in Rwanda a giocare prossimo anno.